Puoi chiamarla proposta o provocazione. Fatto sta che il procuratore della Repubblica di Catanzaro, come sempre, non le manda a dire e lancia l'ennesimo messaggio contro la criminalità organizzata. Non si tratta di un saggio, di un convegno e neanche di un'operazione di polizia. Il messaggio chiaro, ancora più chiaro, punta a smuovere le coscienze della società civile e soprattutto dei giovani. Prendetevi l'Eurofish, ha detto Nicola Gratteri, rivolgendosi ai giovani calabresi. Prendetevi l'azienda con la quale l'Andrangheta ha gestito il mercato del pesce in regime di monopolio e per gli ultimi dieci anni con il benestare degli amministratori giudiziari. La sfida sta tutta qui. Prendersi, anzi riprendersi, qualcosa che qualcuno aveva ottenuto con la prepotenza, incutendo timore e facendo prevalere la legge della forza alla forza della legge. Il pensiero comune, quello che l'Andrangheta ha costruito nell'immaginario collettivo, porterebbe a dire chi me lo fa fare. Prendersi qualcosa che apparteneva alla famiglia del boss significa attirare l'attenzione, significa finire nel mirino. Questo accade nella logica perversa del tirare a campare, nella pratica omertosa che ci fa stare alla finestra fin tanto che non siamo noi a subire direttamente la protervia dell'arroganza criminale. Cosa succederebbe se ad ogni alito di vessazione, di sobruso, chiunque alzasse la voce anche se non toccato direttamente? Ovunque un diritto viene calpestato nel silenzio, il germe della mala pianta si alimenta. Gratteri sa di aver lanciato una sfida forte, forse immagina e fin anche teme che nessuno risponderà alla provocazione. Ma chi lotta contro la criminalità lo fa naturalmente, lancia in maniera automatica il suo appello alla parte sana della società, affinché con azioni concrete e quotidiane si rafforzi la volontà di creare un tessuto sociale normale, non drogato, da dinamiche criminali. Prendersi, riprendersi il mercato del pesce sarebbe più forte e significativo della stessa operazione che ha portato agli arresti di qualche settimana fa. Sarebbe estendere l'efficacia dell'operazione dei carabinieri alla vita di tutti i giorni, sarebbe come dare lo sfratto alla cosca da quella che considerava la sua casa, sarebbe come dire che questa Calabria vuole rialzarsi davvero.